Siamo con Irina Pavlova, ufficio stampa eBay, nei chiostri dell'Umanitalia qui all'Ebay Hub. Esatto, buongiorno. Ebay Hub, noi abbiamo voluto partecipare ai festival portando eBay offline. Tutti conoscono il sito eBay, che è un sito online, il più grande centro commerciale in Italia e nel mondo. Abbiamo deciso di far vedere un piccolo assaggio di eBay offline. Quindi cosa succederà? Dal 19 al 23 settembre ogni giorno abbiamo tantissimi appuntamenti presso questo hub che vedete qua. Cominciando dalla mattina fino alla sera, ci sarà la possibilità di giocare al gioco di eBay in 3D, quindi vincere un coupon di Paypal. Quelli che riusciranno a trovare le offerte più velocemente di tutti, riusciranno a vincere un coupon di Paypal. Dalle 11 a mezzogiorno c'è un appuntamento fisso con un nostro esperto che vi potrà spiegare come si acquista su eBay in tranquillità e in sicurezza, non soltanto in Italia ma anche in tutto il mondo. Dalle 16 alle 17 ci sarà la possibilità di prendere un aperitivo con noi, sempre presso il nostro hub e da 17 alle 18 ogni giorno incontrare la nostra caccia a fare, che è il nostro profilo di eBay su Facebook. Quindi assieme a lei navigare su eBay e trovare gli affari migliori. Grazie. 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 Grazie.